Benvenuti in questo spazio speciale, in compagnia della dottoressa Michela De Petris, medico-chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione, esperta in alimentazione vegetariana, vegana, macrobiotica e crudista. Ben trovata. Sì, ben trovati a voi. E grazie doppie per l'ospitalità, perché ci troviamo nel suo studio milanese. Anche oggi andiamo alla ricerca e all'approfondimento di quelle che sono le malattie, le patologie, se vogliamo, più diffuse e quello che possiamo fare attraverso l'alimentazione, quindi quali sono i cibi migliori per cercare di mantenere o comunque di ritrovare la salute. Anche oggi affrontiamo un argomento che riguarda purtroppo tante persone, perché parleremo di tumori, giusto dottoressa? E purtroppo la diffusione di questo tipo di patologie è ampia, larga e purtroppo anche capillare. Ci sono magari dei distretti corporei che sono più colpiti di altri. Sì, e soprattutto l'età di insorgenza delle patologie oncologiche si sta drasticamente abbassando. Ormai vediamo sempre più casi anche di bimbi, soprattutto per quanto riguarda le leucemie, i linfomi, i tumori encefalici che colpiscono sempre fasce più basse di età. Come dico sempre, con l'alimentazione si può fare molto, con i cibi giusti si possono fare meraviglie, con i cibi sbagliati davvero grandi danni. I tumori sono sempre più frequenti, sono sempre più ubiquitari. I quelli di maggior riscontro da sempre sono, per quanto riguarda la donna, tumore alla mammella, ma anche utero o vaie, per quanto riguarda l'uomo, soprattutto tumore al polmone, alla prostata, per entrambi tumore al colon. Il tumore al colon è quello più, forse direttamente colon, ma anche stomaco, intestino in generale, forse è quello più direttamente influenzato dai cibi, visto che da lì passano, però è doveroso fare qualcosa e agire non tanto sulla terapia, sì, ma soprattutto sulla prevenzione, perché comunque prevenire è meglio che curare. Anche ci fossimo già malati, possiamo e dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Sappiamo che sono sempre di più gli studi che dimostrano come l'influenza dell'ambiente e dell'alimentazione siano importanti, come dicevamo, nel bene e nel male. L'ambiente è fondamentale e l'alimentazione fa parte dell'ambiente. Addirittura è stato stimato dal WCRF, che significa World Cancer Research Fund, è una grossa società scientifica che si occupa proprio di studiare la relazione tra alimentazioni, patologie, prevenzioni, tumori, terapia. È stato stimato che il 30-40% dei tumori può essere evitato con un'alimentazione più sana. Ed è una percentuale altissima, perché il 30-40% dei tumori, se dipende dalla dieta, a questo punto dipende da noi, perché siamo noi direttamente che decidiamo che cosa mettere nel nostro piatto. Addirittura, perseverare in abitudini alimentari scorrette peggiora la prognosi e quindi l'evoluzione della malattia, mentre in un qualsiasi momento, se decidiamo di migliorare le nostre abitudini alimentari e quindi la nostra dieta, miglioriamo l'efficacia delle terapie convenzionali nel caso in cui andassero fatte, che vuol dire chemioterapia, radioterapia, chirurgia, ormonoterapia, terapia biologica, per cui migliorare l'alimentazione rende più efficaci tutte le terapie in generale, si riducono gli effetti collaterali e migliora la prognosi e quindi l'evoluzione della malattia. Quindi non abbiamo niente da perdere, tutto da guadagnare nel migliorare la nostra alimentazione. Forse il primo gradino è proprio la parola abitudine, perché probabilmente siamo abituati, per usare proprio lo stesso termine, a seguire un determinato tipo di alimentazione, a mangiare determinati cibi, perché sono piacevoli, perché ci piacciono, perché fanno parte, se vogliamo, anche della nostra tradizione. In certe zone ci sono magari prevalenza di cibi rispetto ad altre e quindi fa parte un po' del nostro bagaglio, se vogliamo, un certo tipo di cibo. E lì, è proprio tutto lì il gioco, la chiave di volta. Capire come determinati cibi fanno male e ci intossicano, come poter migliorare la nostra alimentazione e la cosa che dico sempre ai miei pazienti, non c'è come capire che un cibo faccia bene per farselo piacere. Per cui mi riferisco per esempio agli estratti verdi, che io suggerisco sempre ai miei pazienti oncologici. Gli estratti verdi diventano un concentrato sano naturale di vitamine, antiossidanti, polifenoli che vanno a disintossicare il fisico, alcalinizzarlo e disinfiammarlo. Gli estratti però, come le centrifughe, che tutti più o meno conoscono e hanno assaggiato nel corso della loro vita, ahimè, purtroppo, di solito, vengono fatti a base di frutta. Per cui il classico estratto o centrifuga che si prende al bar è fatto da carote, mele, barbabietola, zenzero, arancio, che sono tutti vegetali, interessanti e utili, ma che non vanno estratti, perché andando a estrarli si elimina la fibra, si concentra il succo e diventano veramente un magazzino di zuccheri semplici. Per cui questi estratti, dolci, gradevoli, colorati, non vanno fatti, soprattutto nei pazienti oncologici. Gli estratti che fanno bene invece sono quelli verdi, fatti da verdure verdi. Di solito si mettono tre verdure verdi che possono essere lattuga, rucola, spinacino, soncino, la verza, il cavolo cappuccio verde, piuttosto che non le foglie verdi delle carote o dei rapanelli o delle barbabietole. Serve qualcosa di verde che non contenga zuccheri e che può quindi essere estratto e poi si aggiunge un pezzettino di qualcosa di un po' più dolce che può essere un pezzettino di mela o di pera o un pezzettino di kiwi o un pezzettino di carota. Ma la parte dolce, colorata, deve essere minoritaria rispetto invece alla quantità di verdure verdi. E mi ricordo che poco tempo fa mi hanno fatto assaggiare un estratto verde, crudo, perché ovviamente tutte le verdure che vengono usate devono essere crude, di Catalogna. Catalogna al 100%. Quando me l'hanno detto ho pensato caspita sarà amarissima, verde, cruda, solo Catalogna, però mi sono anche detta so perfettamente che fa molto bene per cui comunque mi piacerà. Era buonissima. Era buona proprio al gusto ma ripeto non c'è come sapere che qualcosa faccia bene per farselo piacere. E gli estratti sono una meraviglia. Il grosso vantaggio dell'estratto che ha una valenza terapeutica ripeto soprattutto nei pazienti oncologici andrebbe assunto tre volte al giorno lontano dai pasti fatto e bevuto subito quindi non tenuto lì perché più lo si tiene lì e più si ossida e nel quantitativo di 250-300 ml per volta per cui in questo modo ha una valenza terapeutica perché concentra tutte le sostanze nutritive importanti. La verdura va comunque utilizzata indipendentemente dall'estratto. L'estratto è un qualcosa in più che ci consente di compattare in poco spazio tante sostanze nutritive importanti ma la verdura va comunque utilizzata ai pasti volendo anche come spuntino volendo anche a colazione. Le verdure quelle colorate un po' più dolci come le carote i peperoni la barbabietola cruda i pomodori quando sono di stagione vanno comunque bene non vanno eliminati devono essere usati sempre quando sono di stagione ma masticati così come tale un po' come la frutta la frutta va tutta bene non consiglio quella tropicale tipo le banane mango papaya ananas che arrivano dall'altra parte del mondo vengono raccolte acerbe fatte maturare nei containers e sono molto più zuccherine rispetto alla nostra frutta autoctona chiaro che fa sempre meno peggio una banana che non un pezzo di formaggio o un salume o un pesce però se riusciamo a stare sulla frutta e sulla verdura di produzione locale di stagione e ancor meglio biologica tanto di guadagnato la frutta va benissimo la si può consumare ma non estratta va proprio masticata e consumata nella sua interezza perché nel frutto intero ci sono le fibre le fibre rallentano la velocità di assorbimento degli zuccheri ricordiamoci che gli zuccheri soprattutto quelli raffinati sono la pappa preferita delle cellule tumorali sono proprio la benzina pura che stimola la proliferazione delle cellule per cui per la prevenzione ma soprattutto per la terapia dei tumori sicuramente vanno abbandonati gli zuccheri semplici per cui niente zucchero bianco niente zucchero di canna niente miele niente farine raffinate niente cereali brillati per cui la pasta il pane il riso tutti i cereali in chicco fette biscottate crackers grissini vanno tutti bene ma devono essere integrali perché se sono bianchi raffinati diventano un concentrato di zuccheri che stimolano la proliferazione cellulare con questi spuntini che abbiamo o comunque con questi alimenti che possiamo assumere durante la giornata anche il pasto però riveste comunque una certa importanza sia quello del mezzogiorno magari più leggero quello della sera lo ricordiamo sì 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 il pasto è fondamentale deve essere fatto bene per la prevenzione e la terapia dei tumori l'alimentazione deve essere il più possibile a base vegetale questo perché sono i cibi di origine vegetale che alcalinizzano e disinfiammano l'organismo le cellule tumorali vivono proprio in ambienti acidi e infiammati come possiamo acidificare e infiammare il nostro fisico attraverso i cibi di origine animale in particolare grassi saturi colesterolo che si trovano il colesterolo si trova solo nei cibi di origine animale proteine animali acide che si trovano nei cibi di origine animale se invece ci spostiamo sul vegetale andiamo proprio ad avere un'azione lenitiva disinfiammante alcalinizzante sull'organismo le cellule tumorali si trovano male vanno incontro a morte in ambienti non favorevoli a loro e l'ambiente migliore per portare a morte le cellule tumorali è quello alcalino o basico e disinfiammato quindi possiamo nel nostro piccolo cominciare a fare qualcosa dobbiamo direi assolutamente dobbiamo poi ovviamente non finisce tutto con l'alimentazione se l'alimentazione fosse in assoluto la chiave di volta che ci fa ammalare oppure guarire tu cur e basta saremo a cavallo avremmo trovato veramente la soluzione per tutto però influisce grandemente l'alimentazione è la prima medicina ma soprattutto la cosa bella è che mentre eventualmente per le altre terapie dobbiamo dipendere da altri medici professionisti che ci dicono cosa fare o ci applicano e ci esercitano su di noi quel tipo di terapia l'alimentazione la possiamo mettere noi in pratica da subito già dal pranzo dalla cena dallo spuntino per cui non dipende da altri soprattutto in caso di patologie importanti la cosa migliore direi è farsi seguire da qualcuno per cui non il fai da te quanto meno all'inizio la cosa migliore è avere un po' di dritte precise anche perché il trucco non è tanto togliere i cibi che fanno male quello sicuramente sì ma lo possono fare tutti quanto inserire i cibi giusti e per sapere quali sono i cibi giusti a seconda della situazione ci voglia qualcuno che li sappia indicare dicevamo che l'età dell'insorgenza di queste patologie si sta abbassando quindi questo tipo di alimentazione può essere indicata anche per i più piccoli sì 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 assolutamente i bimbi attualmente sono più frequentemente affetti da leucemie linfomi e quindi tumori liquidi ma anche soprattutto encefalici ma proprio tanti tanti e i tumori dell'encefalon rispondono benissimo a determinati cibi da utilizzare e determinati cibi assolutamente da eliminare i salumi la carne i formaggi stagionati sono proprio deleteri soprattutto per le patologie oncologiche encefaliche ma c'è un non tanto un elisir direi una combinazione molto molto gradevole molto potente e decisamente fortuita che si chiama trito scacciaguai che è un trito è una ricettina velocissima da utilizzare è un trito non dico miracoloso ma molto potente che tutti possono preparare e usare a pranzo a cena ma anche per una colazione salata famoso trito scacciaguai lo si prepara con un trito di aglio crudo un trito di radice di zenzera zenzero cruda tagliata a tocchettini e la buccia del limone biologico anche lì tagliata fine 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 mescolando aglio zenzero e buccia di limone scorza di limone biologica si ottiene questo trito scacciaguai perché sia l'aglio sia lo zenzero sia la scorza di limone hanno delle proprietà nutrizionali molto interessanti e anche antitumorali e le si utilizza per condire quello che si vuole la pasta i legumi la zuppa l'insalata ma anche fetta di pane integrale nero un po' di olio sopra e una spolverizzata di questo trito scacciaguai da provare perché è veramente molto buono grazie dottoressa anche per il consiglio che riguarda in questo caso proprio il cibo da utilizzare e da preparare abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione per questo argomento quindi grazie alla dottoressa Michela De Petris grazie come sempre a tutti voi per averci seguito e arrivederci grazie a tutti